Il primo vaccino terapeutico pediatrico al mondo contro l'HIV, quello sperimentato all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Un vaccino destinato ai bambini che hanno contratto l'infezione per via materno-infantile, quella più diffusa, soprattutto nei paesi poveri, messo a punto con uno scopo ben preciso. Educare il sistema immunitario a un bambino con un'infezione verticale HIV nel tentativo di aiutarlo a riconoscere il virus da solo e quindi a rispondere con risposte che sono protettive verso il virus e teoricamente in grado di controllare la replicazione virale. La sperimentazione interessa al momento 20 piccoli pazienti seguiti da anni dall'ospedale della Santa Sede in cura con farmaci che bloccano la replicazione del virus. Sono dei pazienti che sono nati con infezione da HIV, che sono stati trattati come di norma, debbono essere trattati i bambini e che hanno sempre avuto un controllo completo dell'infezione grazie alla terapia che hanno fatto. Non possiamo però ignorare la richiesta che ci viene fatta da pazienti che, crescendo con l'infezione HIV, soprattutto quando incontrano l'età adolescenziale, dimostrano la loro esigenza di ridurre il numero di terapie, di alleggerire le terapie antiretrovirali e quindi sono necessarie nuove strategie terapeutiche in questo senso. La somministrazione del vaccino abbinata a farmaci retrovirali fa registrare un aumento significativo delle risposte immunitarie dei bambini seropositivi, potenzialmente in grado di tenere a bada il virus. La strada è lunga, ma la direzione imboccata sembra davvero essere quella giusta. Alle mamme che chiedono mio figlio può partecipare a questo studio, sicuramente ci saranno degli spiragli nel futuro in questo senso. La regola fondamentale è comunque continuare a credere che il trattamento è l'unica strada per poter tenere a bada questo virus.